Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! Tutti quei simulatori di guida e di trasporti, insomma, Eurotrack Simulator 2 ad esempio, ma con delle componenti un pochino più survival, nel senso che dovremo anche mangiare, fare scorte, prenderci cura del nostro camion e appunto a differenza, e questo mi piace molto, di Eurotrack Simulator potremo scendere dal camion e quindi camminare per le lande desolate dell'Alaska, diciamo stato che tra l'altro mi piace molto. L'ho deciso, volevo giocarlo un po', però poi ho visto l'inizio che si faceva comunque abbastanza interessante, quindi ho detto, lo registriamo direttamente e vediamo la bontà del prodotto. Su Steam non ha delle ottime recensioni, nel senso che sono perlomeno bilanciate tra le positive e le negative, quindi è nella media. Vediamo, Get Your Assignment, dobbiamo, il gioco è in inglese, quindi cerchiamo di capire qualcosa, abbiamo il Job Manager, là c'è quello che potrebbe essere ipoteticamente il nostro camion, ma andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, Refinery, Equipment, PH Refinery, 5 ore e 4 minuti, abbiamo una paga e un'esperienza che prendiamo, 4.000 dollari, ok, tempo prima che scada questo, in carico, 24 ore e 40 minuti. Ok, hai bisogno di completare un ultimo lavoro per i tuoi impiegati, ok, perché ci viene lasciato qualcosa da quanto ho capito. Choose the job, plus and all to accept the job, ok, tengo premuto, lo accetto, perfetto, abbiamo il nostro lavoro. Quindi si va a prendere il nostro camioncino, dobbiamo prima fermare il nostro camion. Manage Cable. Ah, dobbiamo prendere il socket e collegarlo nel rosso. Ok, è bello perché questa animazione qui non ci consente di incastrarci tirandone manualmente, ma prendendo in mano e selezionando dove inserirlo. Perfetto, tutti i cavi sono connessi. Alza il supporto. No? Ma no, ma no, ma fatti fatti i tuoi, ma lascialo lì dove era, no? Ok, poi. Come faccio a uscire? Esca. Rise the support. Ok, dobbiamo sollevare i supporti, che sono quelli che tengono fermo il camion. Ma non so se si fa da qui, sì, penso di sì. Ah sì, con la manovella. Ok, quindi tengo premuto. E si sollevano. Perfetto. Io sapevo se si facesse con un motore. Now get in your truck. Ok, vediamo. Sono camion americani, quindi sono camion... Almeno mi sembra un po' più basso rispetto a quelli a cui siamo abituati. E poi anche questo scarico qui altissimo. Stile americano. Saliamo sul camion e vediamo bello l'ambiente. Stati arranging and hit the road jack. Ok, ignition. Abbiamo il tastino. Oh, bello. Handbrake. Gioco col cambio manuale. Automatico, scusate. Perché comunque tutti i camion ormai hanno il cambio così. Dashboard light. Accendile. Turn the radio. No. Assolutamente no. Perché ci sono, me l'ha appena detto, ci sono canzoni con licenza. E differenziale abbiamo detto. Ether turn on. Quindi il riscaldatore d'ambiente. Credo che ci sia... Ok. Accendiamo anche le luci. Figo. Ah, come aerotrack abbiamo le telecamere. Devo dire che si vede anche piuttosto bene. E gli specchietti sono fatti bene. Quindi andiamo. Approach the gate to open it and hit the road. Ok, abbiamo la nostra... Ma vi dirò che a livello di feeling non mi sembra male. Anche se... Si sta cambiando le marce in automatico. Stiamo seguendo il navigatore. È una zona un po' impervia questa. Oh, ha fatto uno scatto e mi sono ritratto con la telecamera in alto. Tra l'altro bisogna fare molto, molto attenzione. Visto anche la dimensione del rimorchio che trasportiamo. Comunque andiamo a vederlo con questo visuale qui. Ce la stiamo cavando abbastanza bene. Ma a me piace di più dall'interno. Perché sono un amante delle simulazioni. Devo vedere se si può cambiare. In alto a sinistra i gradi Fahrenheit. Mi ritrovo più... ...agevole con i Celsius. Ok. Dobbiamo fare molta attenzione. C'è anche questa linea qua. Che voglio sistemare immediatamente se è possibile. Perché gli FPS no limits non mi stanno bene. Il v-sync lo attiviamo immediatamente. C'è anche il DLSS che non so adesso qui se effettivamente funzioni. Tuttavia, Temperature Unit usiamo i Celsius. Perfetto. Quindi teoria dovrebbe essere. Ok, beh, lo fai schetto. Dobbiamo andare a sinistra, eh? Quindi usciamo. Vediamo se sto facendo giusto. Sì, tanto qua non... Ok. È snodato da paura questo... Bene. Vediamo quanto ci mettiamo a consegnare questo carico. Non vedremo granché, diciamo, in questo gameplay. Perché alla fine stiamo guidando, stiamo facendo due chiacchiere. Ma la cosa che mi piace molto è il fatto che comunque dovremo anche cibarci. E quindi ci sono il carburante, il suo riscaldamento del motore. Ma, come vedete in basso a sinistra, c'è la vita, la fame e l'energia. Quindi bisognerà resistere al freddo dell'Alaska, bisognerà mangiare e quindi riempire le proprie scorte e magari dormire anche nella cabina. Tra l'altro, ho operato prima per sbaglio, ma guardate qua, la mappa è abbastanza grossa. Calcolando che comunque... Cioè, dobbiamo fare un bel viaggio adesso, vediamo, ci servono 4 ore per arrivare là e quindi... Adesso stiamo andando... Voglio vedere un'altra cosa. Se è possibile mettere nel gameplay anche i chilometri. Ma sarebbe assurdo, giustamente non c'è perché siamo in America, quindi non... Siamo in Alaska. Forse è stato canalese ci sarebbero stati chilometri, ma qua ci sono le miglie. Perché sono sotto gli Stati Uniti. Adesso facciamo un sorpassino, anche se è abbastanza da pazzi qui in questa zona, non è un'autostrada. Ma l'abbiamo bella che superata. Adesso stiamo andando tanto, eh. Dovrei vedere anche se c'è il cruise control. Ecco, è un po' trafficata. Aspetta che... È bella trafficata qua. Bisogna... In alto a destra c'è la nostra destinazione. Quello che stiamo trasportando. Il tempo che ci rimane. E lo status del rimorchio che noi stiamo trasportando. Forse qui potrebbe essere una buona zona per sorpassare. Spero di farcela senza fare danni. Devo girare di qua. Quindi, teoricamente, sono stato... Ok, qua c'è una stazione di servizio dove possiamo fermarci e fare acquisti. Ma riserverò questa cosa per quando arriveremo a destinazione. Io mi darei una mossa, però, eh. Scusi, signore, col pick-up viola. Vediamo se siamo abbastanza minacciosi. Possiamo uscire in sorpasso in salita. Non è una grande idea. Ma mi scusi, ma perdoni, eh. Io... Come i lunghi, eterni sorpassi in autostrada. Vediamo se stiamo... Eh, cazzarola. Non ce la facciamo, non va. Niente. Fatemi rientrare. Eh, fa fatica qua. Ovviamente non è uno snowrunner. Almeno a quanto io ne so. Poi magari... Ehm... Differenziale. No. Andava bene così. Non c'è il... Il... 4x4, quello che è. Comunque siamo. E lì, sempre in alto a sinistra, si vede... Primavera. L'estate che arriva. Eh, eh, eh. Poi c'è... Eh, ci sono le stagioni. In sintesi, molto in breve, quello che volevo dirvi. Carbonate siamo messi bene. Ah, c'è anche la possibilità di abbassare questo. Se abbiamo il sole in fronte. E abbiamo il CV con cui possiamo andare. Questo mi è uscito scritto prima, ma mi sono dimenticato di dirvelo. Eh, possiamo chiedere aiuto nel caso in cui ci trovassimo incidentati o con un mezzo inutilizzabile. Non so cosa fosse quell'avviso, ma... Noi continuiamo. Adesso voglio dare un'occhiata. Fortunatamente si ferma. Stiamo andando. Non dovevamo girare, vero? Sì, no, dobbiamo arrivare qua. Quindi si continua dritti. Si sorpassa questo fiume, bellissimo. Che sembra un largo... È un largo, non è un fiume. Credo. Lo trovo più semplice a livello di visuale, movimento, comunque mix di mouse e tastiera rispetto a Neurotrack. E non sono andato a vedere il motivo delle recensioni negative, perché me lo voglio vedere io. Voglio dare un parere di quello che è questo gioco. Adesso, probabilmente, abbiamo superato il ponte. Certo, alla prossima dobbiamo girare a destra. Non ho idea di quale sia il tasto per girare a destra. Cioè, la freccia. Quindi gireremo così. Facendo un po' di manovra. Boiamondo! Mi sono fatto male. Vediamo il camion in che stato è. Beh, il cartello è disintegrato. Però, vabbè. Mi diceva che praticamente se tu mangi ti curi in automatico. Col tempo. Eh, si è danneggiato un pochino, ma... Che altro? Il camion? Si è fatto male? Vabbè. Vedremo quando arriveremo. Intanto. Ah, io continuo a guardare qua, ma è anche lì in basso a sinistra. Ah, è là. Ok. Dimmi che non... Ok. No, infatti, infatti. Allora, la prossima dobbiamo girare a sinistra. Perfetto. Il tuo quartiere generale vicino, puoi chiamare. Ah, vedete, questo è quello che vi dicevo. Rifornimento d'emergenza. Se restiamo a secco e simili. C'è qualcuno che ci segue dietro? Sì, ma sta andando più o meno la nostra velocità. Non ci sorpassano. Qua è un altro freeze. Ma ci sta. Beh, dai. Ok. Ok, la prossima dobbiamo girare a destra, eh. Dai. Qualche incertezza ogni tanto, graficamente. Ma penso che sia proprio anche pesante. Cioè, calcolando un indie, posso pensare che sia una mala ottimizzazione che verrà sistemata. Perché graficamente è normale, insomma. Ok. Giriamo. È andata bene che ho avuto quell'attimo di distrazione. Abbiamo visto anche come il gioco si comporta, come reagisce alle collisioni. Perché se non avessi fatto quello, beh, diciamo che il viaggio sarebbe stato quasi perfetto. Adesso, alla prossima, giriamo a destra. Siamo arrivati. Ecco, devo fare attenzione a questi giri così. Perché il camion sta andando, eh. Ok, siamo arrivati. Rotate. Dovrei non tagliare qui, perché rischio di rompere i cartelli con il rimorchio. L'ambientazione, poi, mi piace tantissimo. Ok, park in any highlighted area and unlook the trailer. Ok, unhook, pardon. Ok, facciamolo. Sparcheggio qui. E vado a sganciare. Spegniamo. Ah, windshield wiper, no. Ignition. Peno a mano. Exit. E andiamo a sganciare il rimorchio, quindi. Manage cable. Lo stacco. Sì, poi sarebbe più bello magari avere un'animazione un pochino più veloce, perché alla fine questo qui lo stacchi, praticamente, bam, ti si torna indietro e lo infili giù. Insomma, non penso che ci mettano tutta questa cura nel farlo. All cable disconnected. Ok, esco. Sì. Ok, trailer. Completamente fisso. Quindi, tecnicamente, è staccato, perché l'abbiamo sollevato. Parliamo col tizio. Job manager. Park the trailer in any available cargo dock in this location. E' qui. Parking precision. Ah, aveva dovuto stare indietro. Vabbè, vabbè. Non gli piace. Niente. E perdiamo tempo, lo riattacchiamo allora. Riattacchiamo i fili. Eh, ora ragazzi. Che vi devo dire. Allora, premie. Sì, non farne tante. Dai, ricollega. Che sono, penso sia la parte idraulica o comunque di aria, e la parte elettrica per l'illuminazione posteriore, le frecce e basta. Allora, adesso. Parking precision. Vabbè, proviamo. Il fregge netter unlock. Unlock. Ma... Ma era giusto allora... Ah, scusate. Cacchio succede. Devo fare qualcos'altro. No? Fatemi un po' vedere. Che devo fare? Ah, no. Ok, no. Probabilmente era già giusto prima. Vabbè, stiamo cercando di capire, quindi. Vediamo. Mettilo lì. Sgancia anche questo. Mettilo lì. Esco. Unlock. Ah, no. Trailer support. Ok, no. Mi mancava un passaggio. Allora, agganciamo questo. Giù le... 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 Le gambe. Ok. Stacca. Ok, adesso è sganciato. Perfetto. Posso parlarti? Perfetto. Due ore e venti minuti. 98 ore di durability. Precisione. A saperlo l'avrei fatto meglio. Reputazione, esperienza, pagamento. Bonus parcheggio. Bonus stagionale niente. Penalità. 491 dollari. Perché ho fatto quell'incidentino. Le... Perfetto. Ora, abbiamo completato l'ordine. Devi continuare l'avventura da te. Quindi, andiamo qua. Quando sei pronto al tuo prossimo lavoro, apri il post dei lavori e controlla la disponibilità nella tua area. Devi avere la reputazione richiesta e la licenza richiesta. Quella giusta, insomma. Prima di viaggiare, equipaggia un po' di cibo e utensili nel negozio vicino. Se sei stanco, vai a dormire in una cabina di... dove dormire, insomma. O guida in un motel, controlla il livello di carburante, presta attenzione agli status negativi del camion. Non appena compaiono. Con i soldi guadagnati, si usare in grado di acquistare nuovi camion e personalizzarli. Puoi anche investire in... Per espandere la tua base. Per risparmiare visite ai workshop. E investire in te stesso spendendo i perk point nel driver tab. Ok, questo in sintesi è il gioco base. Possiamo set the route to headquarter o pick a job. Allora, noi possiamo impostare la destinazione alla nostra location. Che non so dove sia. Adesso, selected, clear, ok. Logistic location, headquarter. Vediamo dov'è. Perché noi tecnicamente siamo in... Non so dove siamo. Siamo qui. La nostra location è qua. Perfetto. E poi abbiamo vari negozi. Insomma, abbiamo vicino i negozi. Track workshop. La city. Il motel. Perfetto. E qua abbiamo l'industria dove abbiamo consegnato. Quindi ora abbiamo in mano il nostro camion. E basta. Ora, con il tizio... No. Un cavolo perché... Beh, parte che con... Ecco, ecco, vi faccio vedere questo che è interessante. Perché premendo tab è comparsa sta roba. Io posso andare a interagire... Con le varie cose. La batteria. Open hood. Ok. Questi sono i motori. Quindi praticamente ne abbiamo il fuse box. Quindi possiamo cambiare i fusibili. Possiamo aggiungere l'olio. Possiamo il refrigerante. Mettere il refrigerante. Con, penso, una chiave inglese. Riparare i danni al motore. I danni al radiatore. Quindi di cose ce ne sono. E questo è il motore. Che andiamo a richiudere. Rispetto ai camion europei. Questi si aprono davanti. Non viene giù tutta la cabina. E... Possiamo vedere anche le gomme. Se devono essere riparate. Quindi ci prendiamo proprio cura del nostro camion. Salendo su. Possiamo vedere. Non so se io possa... Ah sì. Sì sì sì. Posso andare qui. E posso mettere all'interno tutti i cibi nei vari container. E posso addirittura dormire. Ora sono le 19.57. Dormirò un po' di ore. È una figata perché... Comunque la parte survival. Per quanto non sarà terribilmente stile Souls. Ma sarà davvero una mezza novità per giochi di questo tipo. To the cockpit. Ok posso tornare davanti. E poi partire perché sono le 4 di mattina. Ebbene parte che è l'Alaska quindi qui non credo ci sia anche di buio o di sole. Insomma dipende un po' dalla stagione. Però qua possiamo riprendere la guida del nostro camioncino. E andare ad acquistare le risorse. Ora. Tolgo il freno a mano. E posso magari impostare un... Andiamo al motel. Supermarket. Ok. No volevo vedere una cosa. Tanto adesso il camion è vuoto. Quindi siamo piuttosto snelli nel movimento. No volevo farvi vedere un'altra cosa. Ok. I lavori che si possono accettare. Sulla distanza lunghi in base alla reputazione. Tracker. Abbiamo la nostra immagine. Il capitale. La reputazione. I giorni passati. I viaggi che abbiamo fatto. E la possibilità di andare a prendere i nostri perk riguardo alle capacità meccaniche di guida o di personalità. Che vanno a influenzare i costi che hanno le merci che andiamo ad acquistare. La map dell'Alaska l'abbiamo visto. I lavori anche. Anche questi sono i settings che dovevamo prima. E qui c'è la guida. Non credo. Però magari qualcuno di voi l'ha già spulciato il gioco. E lo conosce bene. Saprà smentirmi o confermare. Non mi pare, a quanto visto, ci sia la possibilità di assumere altra gente che lavora per noi. Quindi il nostro headquarter. Sarà un po' il deposito dei nostri camion e basta. Sì, poi il modello di guida dà un senso di pesantezza, senza dubbio. Però perde un po' nel momento in cui noi andiamo ad esagerare con le curve. Perché è come se avessimo un angolo di sterzo ampissimo. Quindi bisogna un pochino graduarlo. Però lo trovo gradevole da guidare anche con la tastiera. Perché non ha quella mega reattività. Quindi ci consente anche di guardare gli specchietti. Di guardarci intorno con il mouse. Ovviamente la presenza di alberi ci impedisce di tagliare la strada. Come vorrei fare io in questo momento. Però in compenso sto guidando contro a mano grandi pezzi di questa strada. Perché sono costantemente sull'altra corsia. Ora stiamo andando giusto per farvi vedere e scoprire io stesso. Come sono fatti i negozi. Che cosa si può comprare. Soprattutto che prezzi hanno. Però devo dire che è promettente come gioco. È un gioco rilassante insomma. Dovrebbe essere tale. Il prezzo secondo me non è un ostacolo. Se lo terranno ben aggiornato. E se siete fan di giochi di questo tipo. Secondo me. Poi un po' a gusti insomma. Però se io passassi dai campi. Giusto così. Così per tagliare eh. Perché qui c'è una zona di scarico di qualcosa. Per i campi insomma. Che sia quello. Quello il motel. Andiamo un'occhiata alla mappa. Sì. Mi sa che stiamo andando giusti. Perché là in fondo dovrebbe esserci il. Sì. 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 Penso proprio di sì. Penso di. Penso siamo giusti. Vediamo. Questo per riscaldarci. Per migliorare il nostro comfort. Spengo. Veno a mano. E scendiamo. E vediamo come funziona il supermercato. Salve. Lei cosa ha? Ah. Vuole un contratto. Ci dà un contratto di lavoro. Comunque. Cosa si compra? Cliccando qua si aprono. Beef ravioli. Cheese tortellini. Rosa in pizza. Sono tutti diversi. Cioè tutti diversi. In base a dove si va. Water. Ok. Facciamo una prova. Giusto così per. Voglio comprare. Beef ravioli. Cheese tortellini. Beef stew. Prendiamo della roba da bere. Qua no. Qua si. Energy drink. Water bottle. Milk. Ok. Riempiamo il carrello. Coffee machine. Compriamo anche un coffee machine. Ok. Andiamo da. Ok. Siamo nel periodo di Halloween. Quindi vabbè ci sta. Io non leggo queste cose. Ma va bene. Ehi. Vorrei pagare. Posso pagare? Ah ma ho già pagato. Probabilmente ho già pagato. Quindi questo qui che cosa mi dà? 3 mix. Non ho abbastanza spazio. Niente. Niente. Non ti reggo. Comunque si paga già così. Probabilmente qua c'è il bagno. Ma non si va in bagno. Perché non ci sono i bisogni. Quindi ci hanno debitato adesso. Credo. Comunque. Risalendo sul camion. Andando dietro. Dovremmo essere in grado di mettere la roba via. Che palle. Ho detto. Vai lì. Bravo. Poi girati. Apri il container. Ok. Ci mettiamo dentro le cose. Perfetto. Quindi li sfruttiamo. Ce n'è solo uno? Microwave. Ma ma pensa te. Ma scusa. Ah il congelato. Solo i congelati. Perfetto ragazzi. Questo. È davvero molto 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 carino come gioco. E. Niente. Era Alaska Nero Trackers. 21,50 euro su Steam. Uscito il 18 di ottobre. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima. E ciao ciao.